Buongiorno a tutti amici Tecnoviaggio, vediamo un po' Caorle il giorno dopo come si presenta anche per tranquillizzare un po' tutti perché ieri sera abbiamo visto quello che è successo un evento eccezionale, una marea che ha fatto entrare l'acqua anche sulla scogliera del lungomare la situazione è sotto controllo e stabile l'acqua è ancora tanto alta l'acqua è ancora tanto alta guardate che buone 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 guardate qui il mare cosa ha portato su ovviamente forza del mare incredibile guardate che buone guardate che buone Grazie a tutti. 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 Vi aggiorno dopo sulla situazione qui a Caule. Buona giornata a tutti.